Musica Nel 1995 arrivò sul Sega Saturn il primo bug che ebbe un discreto successo La Real Time Associates produsse anche il seguito del primo bug che si chiama Bug 2 Che è un gioco in cui migliorerà tutti gli aspetti del precedente titolo Ma vi lascio prima il video introduttivo Sniper! Sniper! Well fellas! I brought you here because I got news! Big news! I'm a Bug of Action! I make action films and you are my action stars! I signed you up for a six flick deal which will be shot and completed today! What? What? Well time's a wasting boys! Better get off to the limo! Action! Beh come forse avete capito la trama del gioco è molto semplice che invece parla di Bug che è sempre il protagonista del primo titolo che in questo episodio è una rinomata star di Hollywood e il suo scopo in questo gioco è cercare di salvare la sua comunità dallo strano cattivo di turno La trama è soltanto un pretesto per portare un gioco pieno di livelli tridimensionali Graficamente questo gioco come potete vedere è notevolmente migliorato Hanno introdotto livelli tridimensionali un po' più complessi rispetto a quelli del primo titolo però hanno sempre mantenuto la grafica pre renderizzata dei personaggi Infatti ora sono molto più fluidi nei movimenti e molto più dettagliati e anche per quanto riguarda i paesaggi sono molto più dettagliati anche se sono di sfondi bidimensionali ma hanno sempre un loro fascino Per quanto riguarda invece il sonoro possiamo dire che hanno aggiunto dei nuovi effetti sonori che sono proprio perfetti e ben integrati nella situazione del gioco e riescono benissimo a restituire un certo fascino a ogni situazione che affronteremo nel gioco Per quanto riguarda le musiche devo dire che sono tutte perfette ben integrate in ogni tipo di livello che facciamo ognuna ha un proprio tema di ogni film che si fa tipo horror, fantascientifico, drammatico qualunque tipo Per quanto riguarda la giocabilità non è cambiata molto rispetto al primo hanno soltanto cambiato i comandi e ora sono diventati molto più reattivi rispetto al primo titolo e hanno introdotto due nuovi personaggi e possiamo giocare oltre a Bug anche a Maggot Dog e Superfly che sono i due migliori amici del nostro protagonista, Bug Ogni livello che faremo sono delle parodie di film famosi e non è molto facile finirli perché sono molto difficili da affrontare poi soprattutto anche i boss che affronteremo sono molto difficili da buttare giù però c'è una mancanza non abbiamo tutti quei poteri che avevamo nel primo episodio se proprio dobbiamo cercare il pelo nell'uovo il gioco ha dei pesanti rallentamenti soprattutto nelle situazioni dove ci sono più elementi a schermo ma questo non è che intacca tanto la giocabilità comunque se non l'avete ancora recuperato questo gioco recuperatelo perché vale sicuramente la candela anche se non ha avuto purtroppo il giusto successo e dopo questo episodio non ce ne saranno degli altri che continueranno la saga di Bug ma sappiamo che il Sega Saturn non ha avuto il giusto successo se non riuscite a trovare per Saturn ne esiste anche una versione per PC Windows ma è abbastanza difficile da trovare ci vediamo alla prossima recensione ciao! ciao! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.